Oddio, il professor Vecis! Ah, belle notizie che mi sono giunte all'orecchio mentre ero giù da basso al portone. Si ride delle mie ricette qua dentro, eh? Si contesta la terapia che presto io. No, no. Si osa linozare. No, no. Si sovverte ogni regola fino al punto che un paziente si rivela al suo medico un clistere. Un clistere che mi ero premurato di dosare io stesso con queste mani. Ideato! Strutturato secondo i criteri più aggiornati e che avrebbe prodotto negli intestini un effetto meraviglioso. Lo si restituisce all'intente come un pacco qualsiasi. Eh, ma se questo non è affronto non so. Un attentato, signori. Un attentato contro la medicina. Un reato di lesa facoltà per cui nessun castigo può bastare. Considero rotte tutte le nostre relazioni. No! Ne intendo più allacciare con la sua famiglia alcun rapporto di parentela. E per dare un taglionetto con i nostri passati legami. Ecco l'atto di donazione in favore di mio nipote Tommaso Cagerai per il suo matrimonio. Ecco qua! No! Ecco qua! E liberando la colpa di... e liberando la colpa di... e liberando la colpa di... sono ancora... Per la vostra indisciplina grave avrete punizione, più nessuna medicina potrà darvi guarigione, guarigione. Ed Andrini reggiorando sangue in fetto, la trulenza sempre in giro abitando nausea, spipsi, utrescenza, utrescenza. In cui labbra diversia e equida distensia e di loro felientria, che è dal fin di senteria, è dal fin di senteria. Tutto questo in un baleno può segnare la vostra sorte. E l'ital come un veleno mi conduce il tosto a morte. E l'ital come un veleno mi conduce il tosto a morte. Grazie a tutti. Grazie.